Lei sta rischiando parecchio, ma rischiando a 360 gradi. Allora, Salvatore Bagliardo, era una profezia quella che lei ha fatto o c'erano degli elementi veri che oggi può raccontare, visto che si è verificato quello che lei ha detto? Sì, perché a Giletti le profezie vorrei farle in altro ambito, giocando il superenalotto, che le sarebbero più... Queste non sono profezie, queste sono cose delicate, serie. Lei mi chiamò e mi disse che devi venire giù urgentemente, perché è una cosa importante da dirti. Noi ci conosciamo da tempo, non l'avevo mai sentita così... Perché stringevano i tempi e avevo paura che magari lei prendesse tempo. Ma lei sa che hanno detto... Vabbè, insomma, una fesseria... Ne hanno dette tante. No? Cercato anche di dire che lei non è attendibile, lei è un giocatore di poker. Ma non sempre si può giocare nella vita. Io sono un grandissimo giocatore. Nino Di Matteo, magistrato importante, integerrimo, ha detto che questa intervista sarà oggetto, dice delle cose gravi, perché sarà probabilmente oggetto di un'indagine della Procura. Questo me lo aspettavo. Come faceva a sapere, per esempio, che era malato? Perché lo sapevano in pochi. Anche se in molti giornalisti dicono, eh vabbè, ma correva voce. I giornalisti, appunto, cosa dicono? Correva voce. E perché nessuno l'ha mai detto? Prima, chiaramente, se era malato, se era gravemente malato. Queste cose non le ha mai scritte nessuno. Lei quale fonte me lo può dire? Oggi è stato arrestato. Io non le chiedo chi gliel'ha detto, ma siccome erano in pochi a saperlo... Non posso dirlo neanche in televisione. Se poi dovrò... Ma chi aveva... Chi le ha detto? Perché vede, il Procuratore, pochi minuti fa, l'ex Procuratore Scarpinato, dice delle cose pesanti. Matteo Messina De Naro si è fatto prendere. Cosa succederà? Ce lo dice Baiardo questa sera, perché lui è il portavoce del Graviano. Sono i Graviano, grandi boss che lei ha tutelato per anni, garantendone la sicurezza, ad averle detto vai da Giletti a dire quella cosa? Stiamo parlando degli anni 90. Stiamo parlando degli anni 90. Perché poi i fratelli Graviano, al 27 gennaio del 94, sono stati arrestati. E sono passati quasi 30 anni. Io dico, bisogna sempre pensare che questi ragazzi... Lei richiama ragazzi, si sono macchiati di reati terribili, stragi, hanno ucciso, hanno dato ordine di ammazzare anche Don Puglisi. Lei lo sa che su questo siamo lontani, anni luce io e lei, no? Giletti, siamo lontani, anni luce. Però, quanti da giovani fanno fesseristi? Erano ragazzi, erano giovani. Han fatto delle fesserie, le avranno fatte. Le ho chiesto però se sono il Graviano, come dice Scarpinato, dirle vai da Giletti e di questa cosa. E io le sto rispondendo, Giletti. E queste persone qui, in carcere, hanno avuto tempo di... Se dicono in Italia che il carcere dovrebbe in teoria riabilitare le persone, a queste persone, ma che possibilità gli si dà di riabilitarsi? Adesso la Corte Europea ha detto che questo carcere stativo... è una cosa che... Scusi, lei non mi ha risposto. È molto abile. Io arrivo. No, io arrivo poi. Chi è che l'ha detto di andare lì? È credibile che siano, come dice Scarpinato, il Graviano? Ma io sto dicendo un'altra cosa. Io voglio finire un discorso logico. Poi Giletti mi dice se alla fine ho risposto o non ho risposto. Poi sento dire Rina è stato arrestato il 15 gennaio del 1993. Provenzano è stato arrestato a distanza di... Matteo Messina Denaro è stato arrestato adesso. Dove sono state arrestate queste persone? Dove? In Sicilia. Tutte e tre. Dove sono stati arrestati i fratelli Graviano? Milano. E allora c'è qualcosa che non torna? Che cosa non torna? Lei mi sta dicendo che loro volevano fare un'altra vita, lontano dalla Sicilia. Si stavano rifacendo un'altra vita. Ma non mi ha risposto. I penchiti non possono continuare a inventarsi le barzelle, perché ne hanno inventate tante. Ma mi risponda a quella domanda. Poi arriviamo, Baiardo. Mi risponda. Chi è che le ha fatto chiamare Giletti e dire vai lì e di questa roba che era dirompente, perché le ha detto è malato, tra due mesi lo arrestano. Ma bisogna seguire una logica per arrivare alla sua risposta. Io ho bisogno di capire se... Ho capito. Non è che lei si è alzato, Baiardo, una mattina, ha preso il caffè e dice vado a Giletti così. Noi ci conosciamo. Non mi ha mai chiamato con quel tono dicendo Massimo vieni giù, perché c'è una roba forte da dirti. Ho capito. Io ci stavo arrivando alla risposta. Arriva. E ho capito, ma... Queste persone, se si sono trasferite nel febbraio del 92 al nord, a Omenia, precisamente, sul lago d'Orta, perché? Se dovevano continuare a delinquere, a fare i mafiosi, sarebbero rimasti in Sicilia, nella loro brancaccio, come tutti dicono. Invece loro. Era due anni. Ho capito. Lei continua a non rispondere. No, ma le sto arrivando alla risposta. Però arrivi alla domanda precisa. Se l'ha inventato lei di venire da me? No. No, ma la risposta è... Non mi dica chi, però... Come fai a dirmi un graviano che stanno arrestando Matteo Messina Denaro, che si consegna o che è malato? Se loro vogliono tirarsi via da un certo ambiente. Lei tende proprio a far sì che i graviano siano due qualsiasi. Non sto dicendo che siano i Santarelli, non sto dicendo questo. Io sto dicendo che, come tutti, avranno fatto... E allora chi gliel'ha detto? Ci sono altre... No, ci sono solo i graviano. A Palermo c'è Guttadauro, per esempio, di cui si parla molto. Ci sono altre persone. Quindi lei mi sta dicendo che non è come pensa Scarpinato... Che io parlo per Bocca e i graviano. No, in questo caso parla per altri. Assolutamente no. Si è fatto prendere? Oramai spiace per questa persona. Poi è giusto che stia dove è adesso. Però penso che non ne abbia per molto. Ma però scusi! Questa è una... Ah, sa anche quanto vive. Giletti. Se no, non succedeva quello che è successo, presumo. Anche lei, con me, in un'altra intervista sul Lago Gdort, disse che l'agenda rossa, famosa agenda rossa... Era in più mani, mi ricordo. Ma nelle mani anche di Matteo Messina Denaro, disse che chi l'aveva deteneva il potere. Purtroppo sì, è così. Chi gliel'ha detto? Anche lei è una profezia? Quella è una cosa... Vista, non... Vista? In che senso? Vista. Il passaggio di mani. Quella è una cosa che posso dire ho visto. Quando? Stiamo parlando... E c'erano ancora fuori Graviano del 92-93. E a chi andò? E questo... Vabbè, queste sono... Giletti. Giletti. Delle cose che poi ovviamente... Cioè lei ha visto l'agenda rossa, l'ha vista l'agenda rossa di Borsellino in questo senso? Non in questo senso che ho visto l'agenda... Ho visto dei fogli che riproducevano... Cioè qualcuno ha fotocopiato quella cosa? Lei dice questo, poi molti dicono che non è credibile questa cosa. Però lei l'ha vista. L'ha visto... Che lei è veramente coraggioso nell'affrontare anche certe situazioni. Quanti i suoi colleghi fanno questo? Eh? Lei di questo deve andare fiero. Perché tanti i suoi colleghi la stanno abbandonando da quel lato. Lei sta rischiando parecchio. Ma rischiando a 360 gradi. Non magari il Filippo Graviano che ha detto nell'ora d'aria perché ha visto la trasmissione e si sta scassando. Quello è un modo per essere... Ma lei sta rischiando a 360 gradi. Non solo a livello mafia. Grazie. Grazie.